Nel sentence on collaborativo ci troviamo in una situazione completamente diversa. Parte del contenuto viene proposto dal docente mentre la restante parte viene costruita attraverso l'interazione tra studenti e con il docente. Gli studenti sono chiamati a interagire frequentemente tra loro per costruire i contenuti attraverso un processo induttivo a partire da esercizi pratici, esperimenti di laboratorio, esplorazioni in ambiti di realtà virtuale e così via. Il docente guida le interazioni tra gli studenti facilitando la ricerca, l'organizzazione, la condivisione delle informazioni, dei concetti e delle applicazioni e così via. Interazioni così frequenti e di questa tipologia sono più facilmente gestibili in contesti d'aula medio-piccoli. In questo modello il momento di lezione sincrona è spesso incentrato sulla proposta di attività di gruppo alternate ad attività individuali e organizzate in modo conseguenziale tra loro. Tutto ciò per accompagnare gli studenti in un processo di co-creazione di nuovi contenuti partendo sia dalla ricerca di informazioni che dall'esperienza pratica, solitamente per arrivare a una successiva condivisione con il docente col resto dell'aula. Diventa fondamentale in queste tipologie di corso un forte lavoro guidato dal docente di riflessione di metacognizione su quanto appreso e su tutto il percorso svolto. Gli strumenti proposti per le aule ad alta interattività acquisiscono in questo modello un'importanza strategica. Lavagne condivise permettono di creare con poco sforzo isole di contenuto o mappe di accesso a informazioni già rilaborate dagli studenti. Diventano in modo automatico non solo materiale patrimonio del corso ma consentono anche di tenere traccia del percorso e supportare processi di metacognizione. Lo scambio e il confronto tra gruppi viene reso più efficiente anche attraverso l'utilizzo di tool per la peer review nei quali spesso è possibile inserire rubriche di valutazione per un'analisi critica e consapevole. Nelle dinamiche di questo set gli spazi e gli arredi hanno un ruolo fondamentale perché devono permettere di riconfigurare in modo molto rapido lo spazio d'aula in funzione degli obiettivi delle attività proposte. Tavoli componibili, sedute mobili e possibilità di usare in modo flessibile tutto l'ambiente garantiscono una grande libertà da vincoli organizzativi e logistici. Applicando lo Smart Learning Design i corsi che rispecchiano questo modello sono principalmente incentrati su eventi di applicazione ed esperienza pratica, produzione e ricerca, riflessione e metacognizione. In classi hands-on collaborative gli studenti sono coinvolti attivamente nella produzione di nuovi contenuti e in applicazioni pratiche. Corrono però il rischio di perdere di vista il percorso didattico che si sta svolgendo e il senso delle attività proposte loro. In questo contesto diventa quanto mai importante attivare momenti di riflessione e metacognizione che spingano gli studenti a riflettere su quanto fatto, sulle strategie individuali e collaborative adottate e riportarlo ai risultati di apprendimento del corso. La metariflessione può essere avviata a inizio corso, quando si presenta la proposta didattica, può essere richiamata prima o al termine di ciascuna attività e può anche essere ripresa al termine della lezione o dell'argomento, ragionando sulla struttura della conoscenza acquisita e al contempo, riflettendo sul come si è arrivati a questa acquisizione. Può infine essere proposto uno spazio al termine del corso durante il quale confrontarsi su come e con che livello di profondità sono stati acquisiti i risultati di apprendimento, quali sfide e difficoltà sono state affrontate, quali risorse sono state messe in gioco da ciascun partecipante e quali strategie si sono rivelate vincenti. Nel set hands-on collaborativo le lezioni sincrone sono spesso dedicate ad attività di co-costruzione o rielaborazione dei contenuti e attività pratiche. Anche in questo caso, gli eventi formativi svolti in asincrono possono avere l'obiettivo di ampliare le dinamiche d'aula, in modo da dedicare i momenti sincroni alle interazioni più significative con il docente o tra gli studenti. Per esempio, parte dell'attività di ricerca e produzione di contenuti può essere spostata in asincrono. Durante questi momenti può avvenire la condivisione tra gruppi con la supervisione e la lettura critica del docente. Le attività svolte in asincrono possono inoltre essere preziose per consolidare e approfondire quanto visto e sperimentato nei momenti sincroni. È possibile infine proporre attività di riflessione individuale a gruppi su contenuti condivisi in modo sincrono. In questo modo, tra una lezione e l'altra, gli studenti sono chiamati a riflettere sui contenuti, magari elaborati da altri gruppi, e a collegarli ai risultati di apprendimento del corso, ragionando anche sulle relazioni e collegamenti tra i contenuti stessi. Anche in questo caso sono sufficienti attività brevi e ben progettate che non richiedano agli studenti grande lavoro in termini di tempo.